Musica Vediamo i titoli del nostro telegiornale, occhio alla notizia. Rimane alta la quota dei contagi nelle Marche, 125 nel Lanconetano. San Benedetto del Tronto perde la vita a un anziano e sale il numero di pazienti in terapia intensiva. In centinaia in piazza del Popola Pesaro per protestare contro il decreto del governo, striscioni, fischietti e tavole imbandite a terra per dire no alla chiusura dei locali e al pagamento delle tasse. E' in crisi anche il settore delle lavanderie, fatturati in calo fino al 70% a lanciare l'allarme e la CNA. Gli imprenditori chiedono più tutele e contributi a fondo perduto. A cena si va tutti a San Marino, i ristoranti aperti, anche dopo le 18. Distrugge i libri contabili per nascondere l'evasione fiscale. Condannato un imprenditore di Mondolfo, confiscati 150 mila euro. Strada con la broda tombaccia di Fano, il comune non ci ascolta, qui è sempre più pericoloso. Addio a Massimo Vergoni, componente della musica arabita di Fano per decenni, ha aiutato Carnival Factory per realizzare i giganti di carta pesta. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione della Telegiornale. Anche oggi nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus. Si tratta di un'anziana di 85 anni deceduta all'ospedale di San Benedetto del Tronto. La donna, residente ad Ascoli Piceno, aveva patologie pregresse. Il numero dei contagi si mantiene alto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 351 positivi su oltre 1700 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che anche oggi la provincia di Ancona è la più colpita con 125 casi. Poi ce ne sono 70 in provincia di Macerata, 52 in quella di Fermo, 44 in provincia di Pesero Urbino, 41 ad Ascoli Piceno e 19 fuori regione. Ben 105 casi sono stati rilevati in ambiente domestico e i ricoveri invece salgono a 282. In aumento i degenti in terapia intensiva, 32 in totale, più 4 rispetto a ieri, e quelli in subintensiva che passano da 30 a 49. Sale, infine, il dato delle persone in isolamento domiciliare, più 400 nell'ultima giornata. E adesso andiamo a Pesero dove questa mattina, così come in altre città italiane, si è tenuto una settina. Esercenti, politici, ma anche associazioni di categoria sono scesi in piazza per protestare contro il decreto del governo. Il Servizio di Angelica Panzieri. Questa mattina in Piazza del Popolo la manifestazione organizzata dalla Confcommercio e dalla Fipe, che ha radunato tutte le categorie colpite maggiormente dal decreto, baristi, ristoratori, istruttori di palestre. La manifestazione si è svolta in contemporanea in 24 piazze italiane, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Tutti i dettagli nel servizio. La voce si è alzata intorno alle 11.30, quando sono iniziati a scendere in Piazza del Popolo, con megafoni e striscioni, i rappresentanti di tutti i settori maggiormente colpiti dal nuovo DPCM. C'erano i vertici della Confcommercio di Pesero Urbino, esponenti della regione, tra cui l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, e poi centinaia di esercenti, tra ristoratori, baristi, ma anche i rappresentanti delle associazioni sportive, gestori di palestre, piscine ed operatori del turismo. Tutti uniti in una protesta pacifica e nel rispetto delle regole, per dire no alle misure restrittive imposte dall'ultimo decreto, in primo luogo alla chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18.00. La manifestazione è iniziata con un minuto di silenzio, a simboleggiare la chiusura e quindi la morte delle attività. I partecipanti tenevano in mano un cartello con su scritto tasse, lo stesso che pochi minuti dopo è stato strappato. 3, 2, 1, via! A protestare tutti quei settori indicati nel decreto ristori, a cui verranno ridistribuiti 5-6 miliardi stanziati dal governo. Questo decreto non tiene conto che dopo le 6 di sera c'è molta gente che lavora e quindi questa gente che lavora ha bisogno anche di lavorare per mantenersi. Ci sono delle attività economiche che soprattutto nella ristorazione sono aperte alla sera, perché a pranzo il fatturato è irrisorio. Quello che chiediamo adesso come adesso non è tanto di ridare i soldi che tanto da come è stato già annunciato ci daranno qualche briciole, ma il problema è di fare degli interventi strutturali per far sì che l'economia del nostro settore non diventi un'economia passiva che consenta di chiudere solo le attività. Ma sempre ci occupiamo di bambini, ci occupiamo di crescere dei cittadini sani nel corpo e nei valori. Una civiltà sana è fatta di gente sana. Togliere a noi la possibilità di occuparci di loro significa mettere le basi per una civiltà inesistente, senza salute, senza cultura, senza un minimo di dignità e di amore nel cuore. Terminato il flash mob, i rappresentanti di Confcommercio Fipe di Pesaro Urbino hanno consegnato a Prefetto, Comune e Regione un documento con le richieste in cinque punti da esternare al Governo. Il primo è l'esonero delle tasse, non la sospensione, l'esonero delle tasse dei contributi e delle imposte fino al 31-12 se finisce il Covid o le problematiche riguardanti il Covid entro l'anno. Se dovessero proseguire anche questo venga fatto proseguire anche per il 2021. È un fondo perduto da erogare a tutte le aziende che sia proporzionale alle perdite, alle limitazioni di orario. Il riprescino dell'orario dell'azienda dell'orario di pubblici esercizi ipotizzato precedente al DPCM di Conte, ossia alle 24, perché chiudere alle 18 risolanti i pubblici esercizi vuol dire ammazzarli. Il credito d'imposta per tutti gli affitti e le locazioni proporzionali al periodo di chiesura o alle limitazioni che dovranno seguire. E infine la camminazione dei prezzi di gas, luce e acqua, esonero del pagamento di gas, luce e acqua oppure se arrivano le bollette che queste vengano prorogate per il 2021. Quindi noi abbiamo voluto dimostrare con questa manifestazione, ripeto, pacifica nel rispetto delle regole che il DPCM non va bene, che è un DPCM sbagliato, che bisognava intervenire prima, sei mesi fa perché abbiamo avuto sei mesi di tempo per poter mettere a punto alcune scelte. Noi siamo concordi che i ragazzi devono andare, devono andare a scuola e devono socializzare perché poi diventerà anche un problema sociale, di disagio sociale e noi questo lo dobbiamo evitare dobbiamo andare avanti in maniera diversa. Il governo deve capire che è sbagliato quindi noi chiediamo di tornare indietro. Purtroppo non c'è concertazione tra governo e regioni e questi sono i risultati. Abbiamo perso troppo tempo dopo marzo, aprile e maggio, ossia la prima ondata dell'emergenza coronavirus e stiamo adesso inseguendo l'emergenza quando avremo nel periodo di tranquillità dovuto compiere interventi strategici in sanità, scuole e trasporti e quindi garantire lo sviluppo anche in questo periodo emergenziale. E questo lo porto al prefetto personalmente ragazzi. Grazie di tutto. Ed è un periodo difficile anche per le lavanderie a causa del calo di lavoro negli hotel e nei ristoranti. Oggi siamo andati in un'azienda di Marotta nel comune di Mondolfo che ha perso quasi il 50% del fatturato. Il primo lockdown e le ultime restrizioni hanno avuto una ricaduta pesante sul settore delle lavanderie tradizionali che già a primavera aveva subito una drammatica riduzione del fatturato fino al 70%. L'allarme arriva dalla CNA di Pesero Urbino. Tra i più temuti effetti delle restrizioni ci sono lo smart working, le limitazioni agli spostamenti e la chiusura anticipata di locali, bar, ristoranti e pasticcerie. Per non parlare di cerimonie ed eventi che sono stati annullati. In particolare le lavanderie industriali sono state quelle che ne hanno risentito di più. A confermarlo è Rodolfo Nicoletti, responsabile amministrativo di un'azienda che ha la sede a Marotta di Mondolfo. Ad oggi, o precisamente al 23 di ottobre, abbiamo registrato un calo del fatturato del 49% rispetto al precedente esercizio commerciale e chiaramente si va a considerare nello stesso arco temporale. Questa azienda, nata nel 1965, ad oggi conta oltre 750 clienti nelle Marche in Emilia-Romagna e 89 dipendenti, alcuni dei quali in cassa integrazione da ieri. Oltre a questo stabile, poco distante, c'è anche un depuratore delle acque sottoposto ad analisi mensili per garantire il continuo controllo dei valori richiesti dalle norme. In questo periodo dell'anno qua vengono lavati 4-5 mila chili al giorno di biancheria rispetto ai 22 mila della stagione estiva. Lavorano principalmente con ristoranti e strutture alberghiere che da marzo-giugno sono state praticamente ferme. Nei mesi scorsi poi era tornata un po' di speranza e anche di lavoro ma queste ulteriori limitazioni saranno di nuovo pesanti in termini di fatturato. Credo che questo secondo, che per me è comunque un lockdown anche se mascherato sarebbe potuto essere gestito diversamente soprattutto per quelle categorie che vanno a perdere di più, che sono più penalizzate. Dietro ogni lavanderia, ricorda la CNA, ci sono intere famiglie che hanno fatto sacrifici, leasing o mutui per acquistare macchinario ai fondi dove operano e che non riusciranno a sopravvivere a lungo. Il loro ruolo è tra l'altro fondamentale per igienizzare i capi e per contrastare la diffusione del virus che si annida anche sui vestiti che indossiamo. Ora il decreto ristori da oltre 5 miliardi di euro prevede risorse immediate per le categorie più colpite ma forse questa potrebbe rimanerne esclusa. Riascoltando più e più volte la diretta appunto del Consiglio dei Ministri sono state citate categorie come palestre, bar e ristoranti, palestre, NCC, tassisti, si è parlato di teatro, di cultura ma nessuno ha mai fatto riferimento alle lavanderie industriali e ci tengo qua a precisare che la nostra serie del codice Ateco è la 55 e non la 96 che è quella destinata al settore turistico e che però comunque le lavanderie industriali sono fortemente legate al settore turistico perché lavorano con l'hotel e ristoranti e visto che siamo in una località costiera d'inverno l'hotelleria non è che sia così rilevante non ci troviamo in una città metropolitane. E lavorate con i ristoranti quindi? E lavoriamo con i ristoranti e se i ristoranti li chiudono alle 18, li fanno chiudere alle 18, questa è una grossa limitazione per noi. Chiediamo più considerazione per la nostra categoria, proseguito Rodolfo, siamo ancora poco tutelati. E chiediamo quindi appunto di essere magari considerati in tutte quelle categorie che hanno ricevuto un contributo economico a fondo perduto. E se in tutta Italia bar e ristoranti devono chiudere alle ore 18 c'è chi a due passi da noi può tenere aperto. E' il caso della Repubblica di San Marino, uno stato indipendente in cui non c'è alcuna restrizione. Fanesi, pesaresi e romagnoli potranno cenare a San Marino senza alcun problema. Sul Titano infatti i ristoranti e bar possono restare aperti anche oltre le 18. Una situazione che sta suscitando qualche malumore, soprattutto nella vicina Romagna, ma il governo sanmarinese non ha intenzione al momento, vista la situazione complessiva dei contagi e delle misure in atto, di tornare sui propri passi. San Marino è diversa dall'Italia, ha una popolazione contenuta su un territorio proporzionalmente più ampio, ha anche un numero di pubblici esercizi contenuto, il controllo quindi è più semplice, il tracciamento da noi funziona. Chiudere bar, ristoranti e pasticcerie alle 18 è francamente assurdo. Così il segretario di Stato per il lavoro di San Marino, Teodoro Lonfernini, a proposito di quello che definisce un approccio differente del Titano rispetto all'Italia alla seconda ondata della pandemia. Nella piccola Repubblica, di 64 km2, divisa in nove castelli, ognuno con un massimo di 9.000 abitanti, che confina con Marche d'Emilia-Romagna, i pubblici esercizi possono restare aperti applicando distanziamento, mascherine e registrazione della clientela. Nell'aeroporto delle Marche ora è possibile effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 per i passeggeri in arrivo e in partenza. Si tratta di un'operazione voluta dalla società di gestione Ardorica SPA, realizzata grazie ad un'azienda di Ancona. Il presidio è attivo dal pomeriggio di ieri al terminal arrivi e a disposizione di tutti i passeggeri, in particolare di quelli che hanno l'obbligo di sottoporsi al test provenendo da paesi a rischio. Lo screening viene effettuato con un tampone nasofaringeo e il risultato è disponibile in soli 15 minuti. È necessaria la prenotazione e il costo del tampone di 30 euro. Non è necessaria invece la prescrizione medica. Cambiamo argomento. Ha distrutto i libri contabili e nascosto al fisco ben 150 mila euro. Scoperto dalla Guardia di Finanza, un imprenditore di Mondolfo, che è stato condannato dal Tribunale di Pesori. Dettagli nel servizio di Letizia Marchionni. Occultava e distruggeva i libri contabili per impedire la corretta ricostruzione dei redditi conseguiti. Il titolare 55enne è di una ditta che fabbrica porte e finestre in legno. È accaduto a Mondolfo, dove grazie all'intervento della Guardia di Finanza di Fano, che ha scoperto la condotta illecita dell'uomo nel corso di una verifica fiscale svolta nell'azienda del colpevole, è stato possibile ricostruire con una minuziosa operazione investigativa i reali guadagni occultati al fisco da parte dell'imprenditore. All'evasore, su disposizione del Tribunale di Pesaro, sono stati confiscati 150 mila euro. L'uomo, oltre alle sanzioni amministrative, è stato condannato ad una pena detentiva con emissione del decreto di confisca di denaro e beni, fino al raggiungimento dell'importo dell'evasione fiscale fatta. Si è spento all'età di 75 anni Massimo Vergoni, componente della musica Arabita di Fano, che per decenni ha collaborato con l'associazione Carnival Factory nella realizzazione dei giganti di cartapesta, da ultimi il carro dedicato a Rossini e Potenza inaudita, che ha sfilato su Viale Gramsci nell'ultima edizione dell'evento. I funerali di Vergoni verranno celebrati venerdì mattina alle ore 9 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che oggi ci portano nel quartiere di Tombaccia a Fano, dove alcuni residenti chiedono da anni al Comune di sistemare una strada pericolosa e piena di buche. Anni di richieste, ma nessuna risposta. Franconesti, residente lungo la strada comunale di Mezzo a Tombaccia di Fano, ha inviato tante mail agli uffici del Comune e chiamato decine di volte. Ha scritto all'allora assessore Marco Paolini, poi a Cristian Fanesi ed infine ha contattato la segreteria di Fabiola Tonelli in Vano. L'oggetto è sempre stato lo stesso, inserire questa via nel piano di asfaltature. Non l'hanno più riparata. Prima ogni anno venivano a tappare un poco di buche, a mettere le toppe con scarsi effetti. Da un anno e mezzo hanno smesso di venire e l'hanno lasciata andare in malora. È piena di buche profonde, ci spiega mostrando lo stato di degrado della strada. Qui ci abitano tante famiglie, ha proseguito, ma la via è utilizzata in estate anche da chi si reca in spiaggia a Fano Sud e a Marotta, automobilisti che evitano di passare sulla statale adriatica. Decine e decine di macchine, soprattutto biciclette, che non ci possano più andare. Quest'estate erano arrabbiatissimi perché non potevano andare troppe le buche anche per le biciclette. A parte il fatto che non si capisce perché l'assessore o il sindaco permettano di bloccare questa strada e li fanno passare sulla strada principale. Basta mettere un piccolo cartello di vieto di transito a camion e obbligarli a passare di là. Quelli che vanno nella cava, dice? Continuamente perché la debbano riempire. Ci sono decine e decine di camion carichi di terra, stracarichi, che continuano a portare terra per il riempimento della cava. L'estrazione è terminata, ma il riempimento chissà quanto ancora ci vuole. E non passano dalla loro strada apposita. E in attesa di risposte dal comune, oggi il signor Franco ha deciso di far vedere a tutti, tramite FanoTV, lo stato della via. Chissà che qualcuno batta un polpo. È anche pericoloso, provi ad andarcelo. Vedete se è pericoloso, ci vada in bicicletta o anche...